Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, continua la fase perturbata sulla Liguria a seguito delle precipitazioni diffuse e persistenti in corso da ieri e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha modificato l'allerta meteo per la zona B centro della regione Arancione per piogge diffuse fino alle 18 di oggi martedì 19 poi gialla fino alla mezzanotte dell'entroterra di Ponente zona di Arancione fino alle 15 poi gialla fino a mezzanotte Levante regionale zona C gialla fino alle 18 entroterra di Levante zona E gialla fino alle 15 per la zona A ovvero il Ponente nessuna allerta dunque dopo il martedì perturbato che stiamo vivendo mercoledì avremo residui e instabilità con possibili piovaschi fino al mattino sul centro Ponente e schierite più ampie Levante giovedì flussi umidi meridionali riporteranno nubi e precipitazioni diffuse possibile nuova fase perturbata nel corso del weekend il dettaglio oggi martedì 19 novembre insiste sul Mediterraneo una circolazione depressionaria in lento colmamento durante la giornata molto nuvoloso coperto con rovesci diffusi localmente intensi sul centro Levante anche a carattere temporalesco generalmente moderati e più discontinui altrove attenuazione nei fenomeni nel corso della giornata sugli estremi della regione mentre persistono piogge e rovesci sparsi sul centro della regione venti tra moderati e forti anche rafficati settentrionali sul centro Ponente in prevalenza da est sud est altrove mare molto mosso localmente agitato Levante in rapido calo temperature massime stazionari e lungo la costa tra 8 e 15 gradi nelle zone interne tra 5 e 10 gradi domani mercoledì 20 novembre giornata di transizione e pressione in temporaneo aumento sul Mar Ligure nuvoloso al primo mattino con maggiori addensamenti sulla zona centrale associati a residui piovaschi variabilità alternata schierite nel corso della giornata in particolare sul centro Levante nuovo aumento della nuvolosità in serata a partire dalle zone interne con deboli piogge sui rilievi di Levante in tarda serata 20 dai quadranti settentrionali fino al pomeriggio moderati localmente forti al mattino sul centro successivamente deboli o localmente moderati in rotazione da sud ovest in serata mare tra poco mosso e mosso temperature minime in aumento lungo la costa tra 7 e 9 gradi nelle zone interne tra 2 e 6 gradi massimi in aumento lungo la costa tra 10 e 15 gradi nelle zone interne tra 9 e 15 gradi dopo domani giovedì 21 novembre correnti umide meridionali in seno a una saccatura atlantica riporteranno condizioni di diffusa instabilità sulla nostra regione molto nuvoloso con addensamenti più compatti sul centro e sul Levante con associati rovesci sparsi più probabili nelle zone interne tendenza intensificazione e estensione dei fenomeni nel corso della giornata a partire da Ponente 23 deboli e moderati settentrionali sul centro Ponente da est e sud est altrove con rinforzi dalla sera mare tra poco mosso e mosso con moto ondose in aumento dalla sera temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 7 e 9 gradi nelle zone interne tra 3 e 6 gradi massimi in diminuzione lungo la costa tra 10 e 13 gradi nelle zone interne tra 7 e 12 gradi è tutto seguite gli aggiornamenti sui siti www.allertaliguria.gov.it www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di ARPAL e sul profilo instagram dell'agenzia risentirci risentirci